Dopo i successi ottenuti la scorsa stagione, con la vittoria in prima categoria raggiunta nella doppia finale contro i ragusani dell'Olimpia Savio, il Città di Mascali è tornato da circa un mese sul parquet per preparare al meglio l'esordio nel campionato di promozione. La squadra è stata inserita nel sottogirone verde A, composto da Basket Club Zafferana, San Luigi Eci Reale, Minotauro Taormina, Euro Virtus Battiati, Sport Club Gravina e Centro Pallacanestro Giarre. Il presidente mascalese Davide Pappalardo, in vista della nuova stagione, non nasconde l'entusiasmo. Abbiamo costruito un gruppo competitivo puntellando il roster, afferma il massimo dirigente. Sono fiducioso sul fatto che riusciremo a far bene, togliendoci le soddisfazioni che meritiamo. La squadra, guidata sempre dal coach Alessio Cimino, ha cominciato la preparazione atletica a inizio settembre, ha poi precisato Pappalardo, e i ragazzi stanno lavorando nel migliore dei modi. In merito al girone in cui è stato sorteggiato il neopromosso città di Mascali, il presidente vede un grande equilibrio iniziale. Non è facile trovare una favorita, i reali valori delle squadre potranno essere mostrati solo dal campo. In attesa del suo inequivocabile verdetto, dunque, rimane la soddisfazione per una promozione centrata al primo anno, unita alla certezza di un progetto di crescita costante, dal punto di vista sia tecnico che societario.